Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come ben sapete spesso tratto di argomenti che riguardano la sfera cripto ed oggi vorrei proporvi proprio un progetto nato da poco a mio parere molto carino il quale sta anche avendo una crescita esponenziale il mondo cripto può rivelarsi un ottimo metodo per investire per trarre dei guadagni infatti in molti miei video e soprattutto quelli in cui vi faccio vedere i guadagni di ogni mese ho mostrato i guadagni molte volte di investimenti fatti in criptomonete e come potete notare dalle informazioni presenti all'interno di quei contenuti le cifre guadagnate sono davvero importanti pertanto potete sicuramente intuire che attraverso il mondo delle criptomonete si possono ottenere degli ottimi guadagni ovviamente tutto ciò può cadere solamente se viene fatto nel modo giusto avendo effettuato un grande studio prima di passare a compiere l'investimento come vi dico sempre non sono assolutamente un consulente finanziario ma posso solamente darvi dei consigli in base alle mie ricerche e alle mie esperienze per questo motivo prima di utilizzare i vostri soldi per investirli in qualcosa valutate bene se ne vale realmente la pena oppure no in questo video quindi andremo a vedere cos'è Helium e come guadagnare anche 50 euro al giorno con questa criptomoneta acquistabile anche all'interno di Binance la quale nell'ultimo periodo ha avuto una crescita esponenziale aumentando il proprio valore del 500% ora che vi ho spiegato l'argomento di cui andremo a parlare in questo video vorrei assolutamente invitarvi a guardare questo video fino alla fine perché potrebbe essere molto utile per tutte quelle persone come me che sono appassionate al mondo cripto e potrebbe essere anche di ispirazione per tutti coloro che hanno voglia di avere più informazioni e iniziare a compiere degli investimenti e come sempre vi invito assolutamente a lasciare un bel like al video e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornati sui vari metodi di guadagno presenti online e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi assolutamente al mio canale telegram link in descrizione perché al suo interno vi posterò una miriade di applicazioni che ci fanno guadagnare soldi gratis detto questo non perdiamo altro tempo e andiamo avanti e vediamo cos'è Helium Coin e come minare questa moneta Helium Coin è una moneta che per essere minata necessita di strumenti che possono essere comprati a 200-350 euro all'interno del loro sito stesso oppure possono essere affittati mediante delle aziende che compiono proprio del mining però è importante anche sapere che più dispositivi ci sono nella nostra zona più cresce la possibilità di guadagnare attualmente non c'è un guadagno fisso però vi assicuro che i guadagni sono realmente importanti invece se intorno a voi è presente una quantità minore di dispositivi andrete a guadagnare ovviamente di meno quindi per minare Helium Coin viene utilizzato un network di peer-to-peer wireless e cosa molto importante per vedere quante persone possiedono il dispositivo nella nostra zona bisogna solamente entrare all'interno del sito di HeliumCoin.com nel quale troverete una mappa che vi fornirà tutte le informazioni necessarie anche quelle per registrarvi e per entrare a far parte di questo network come vi ho precedentemente detto da come potete notare entrando all'interno della mappa questa moneta è diffusissima soprattutto in America però questo non rappresenta assolutamente un problema perché se avete voglia di iniziare questo percorso potete accordarvi con i vari miner che troverete sia su Telegram sia su Internet il modo da creare il vostro network in quanto più persone minano e più avrete la possibilità di guadagnare cifre più alte e un'altra cosa molto importante da sapere è che se acquistate il dispositivo riceverete il 100% di mining ovviamente perché andrete a tutti gli effetti a compiere l'acquisto del dispositivo se invece non volete affrontare questa spesa iniziale potete affittarlo ad aziende le quali troverete online e nel nostro paese si stanno organizzando per offrire appunto questa possibilità alle persone che minano Helium Coin proprio perché questa moneta si sta divulgando man mano in tutto il mondo quindi se deciderete di intraprendere questa strada dovete anche sapere che l'80% del mining andrà all'azienda in questione e il 20% andrà a voi sicuramente affidarsi ad un'azienda non è la soluzione migliore perché si guadagna davvero poco però il lato positivo è che ricorrendo all'affitto potete effettuare un piccolo test che vi aiuterà a capire se questo modello di mining si è più adatto a voi oppure no inoltre i costi per l'acquisto sono davvero molto bassi infatti come vi dicevo essi hanno un costo di minimo 250 euro fino ad arrivare ad un massimo di 350 euro questo avviene perché il prezzo cambia in base alla potenza di calcolo e in base al suo raggio d'azione infatti i dispositivi che vengono utilizzati per ambienti interni hanno un raggio inferiore rispetto a quelli che vengono utilizzati in ambienti esterni perché questi permettono di far collegare ad essi più persone e così facendo sarà maggiore la potenza di calcolo e maggiore saranno i vostri guadagni questa è una cosa che mi affascina davvero tanto visto che come sappiamo già tutti per minare bitcoin bisogna affrontare delle spese abbastanza alte sia per l'acquisto del software per minare sia per le spese dell'energia mentre con questo progetto avremo la possibilità di guadagnare con un investimento molto ma molto più basso poi ragazzi oltre a questo metodo di mining attraverso dispositivi sempre all'interno del sito possiamo notare che avremo la possibilità di minare helium coin mettendo in staking le loro monete questo però comporta anche un investimento abbastanza importante però non è assolutamente da sottovalutare attualmente helium coin ha un valore di 13 euro ma nell'inizio del 2021 valeva solamente 2,50 euro questo è per farvi capire che il valore della moneta è in continuo aumento ed è necessario dire che non è stata neanche estratta per intero ma solamente un quarto di essa certamente non è da escludere che ci possa essere una variazione del suo valore perché succede a tutte le criptomonete infatti chi fa parte di questo mondo sa sicuramente di cosa stia parlando quindi ragazzi mi raccomando prima di investire studiate molto bene ho deciso di realizzare questo video perché mi ha colpito davvero tanto questo progetto e questo nuovo modo di estrarre le criptomonete che richiede un piccolo investimento rispetto ai classici metodi a cui siamo abituati in Italia non è ancora molto conosciuto però penso che nel tempo avrà un discreto successo anche perché basta vedere il valore di helium coin su coin market cap che ha ricevuto un grandissimo rialzo se siete interessati a possedere quindi questa criptomoneta come vi ho già detto inizialmente potete acquistarla anche tranquillamente all'interno di binance quindi mi raccomando prima di comprare un investimento vi consiglio sempre di studiare bene il progetto a cui si vuol far fronte pertanto se volete alcune informazioni posso dirvi di visitare il sito di helium coin nel quale sono scritti tutti gli andamenti del mining negli ultimi periodi e nelle ultime 24 ore e negli ultimi mesi quindi in descrizione vi lascio il link di helium coin in cui troverete tutte le informazioni necessarie di questo progetto e mi farebbe anche molto piacere sentire la vostra opinione a riguardo magari lasciando un commento qui sotto anche perché ho scoperto questo progetto da poco ed ancora tanto da studiare bene siamo arrivati alla fine di questo video e spero vivamente che vi sia stato utile se così fosse mi raccomando lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per restare sempre aggiornati sui vari metodi di guadagno presenti online e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale telegram link in descrizione perché al suo interno vi posterò moltissimi metodi di guadagno e applicazioni che ci fanno guadagnare soldi gratis e poi per chi non lo sapesse sempre in descrizione troverete un link in questo interno ci sono una merita di applicazioni che ci permettono di guadagnare soldi attraverso i bonus di benvenuto detto questo per oggi è tutto io vi saluto e noi ci vedremo nel prossimo video ciao 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 ciao